Dopo 17 anni che provo a combattere, sono ancora qui, quindi sì, l'ho molto percepito, l'ho sentito, quindi bellissimo film. Ciao Sofia, grazie per essere qui stasera. Cosa ne pensi del film? Grazie a voi per l'invito, è un film veramente costruttivo e è veramente importante che in questo periodo, quando le persone non capiscono molto che i ragazzi hanno bisogno veramente di un supporto, come io ho vissuto in prima persona dopo 17 anni di attività fisica, che ho avuto problemi all'inizio fisici, poi sono continuati a partire dalle ginocchia, alla respirazione, eccetera. Diciamo che trovare una persona come Fabio è stato veramente costruttivo. Oltre ai miei genitori ho trovato un supporto che mi aiutasse fisicamente ed è questo che secondo me vuole trasmettere questo film. E insomma, sì, quando si cade bisogna sempre rialzarsi. Io infatti ogni tanto mi sono quasi commossa perché sì, dopo 17 anni che provo a combattere, eccetera, sono ancora qui. Quindi sì, l'ho molto percepito, l'ho sentito, quindi bellissimo film. Perfetto, tu indossi i Tao Patch, che differenze hai notato indossandoli? Sì, allora io adesso sto risolvendo alcuni problemi fisici con Fabio e sento la differenza perché appunto quando tolgo i dispositivi accuso diversi dolori che utilizzandoli non percepisco. e niente, in realtà è un recupero muscolare molto rilevante, nel senso che riesco a fare il doppio degli elementi di quelli che facevo prima e quindi anche più mirati, ho un recupero fisico che veramente ci mette meno a recuperare il mio corpo in generale. Mi sento meglio di qualsiasi punto di vista, soprattutto questo fisico. E niente, questo mi trovo veramente bene. Grazie mille, grazie.